Ciao a tutti, oggi mi trovo al mare, mi trovo precisamente in Abruzzo, sono qui per lo speciale dei 1500 iscritti e farò 1500 metri correndo e diciamo che anche se sono al mare questo non mi fermerà state a correre a guardare allora prima di tutto dico che da un po' che non cuoro salto il lungo e quindi potrei fare schifo non so quanto ci impiegherò, boh, 8 o 9 minuti non so quanto è che altro salto non lo so ma proviamoci dai primo aggiornamento è passato un chilometro sono a circa 5 minuti inizio a notare che sulla sabbia è un po' difficile un po' più difficile che sulla pista però dai, anche il sole diciamo che non aiuta però nessun problema ho appena finito di fare i 1500 metri più o meno 7 minuti e 30 so che per i mezzofondisti è un tempo schifoso ma sono un velocista e anche non allenato detto questo, siete un po' in taroppio un po' proprio quando inizieremo a essere boh, 2000, 3000 dai, crescete un po' più piano vabbè, sì, piccole considerazioni che sì sulla sabbia è difficile ma sembravano 3 chilometri però vabbè o poi magari per me, per voi sembrava una cazzata io sono abbastanza stanco detto questo mi sa che io vado a farvi un bagno e vi saluto la prossima volta voglio che siate voi 3000, 5000 dai, vedremo allora, ci vediamo al prossimo video allenatevi e non perdetevi tutti gli altri video ecco del mondo salti in lungo